Nessuno meglio della Sandro Abbate, la squadra di Vinicio Comella prosegue la propria stagione magica, 30 punti conquistati, 10 vittorie ottenute, imbattuti nel campionato cadetto, 56 gol siglati, meglio solo il futsal marigliano con 60 e solo 15 subiti, secondo migliore attacco e migliore difesa del raggruppamento. Al primo anno in B i verde e blu stanno veramente sorprendendo tutti, l'obiettivo era fare bene e la squadra ci sta riuscendo a pieno regime, 3 punti di vantaggio su Marigliano e 8 sulla terza Alma Salerno. Nell'ultimo match del giorno di andata, vittoria schiacciante ai danni dell'Azzurra con Versano, 6 a 2, le reti dei padroni di casa portano la firma di Abbate, Fantacele, Bebetigno, Richard, autore di una doppietta e Mazzocchi. Fantacele con la rete messa a segno arriva a quota 13 nella classifica a marcatori. Insomma è lecito sognare una formazione spina nel campionato di A2, a noi non resta che incrociare le dita e sperare che la squadra di Comella possa ottenere un altro importante traguardo.